La filosofia può essere divulgata solo dai filosofi, gli unici degni a diffondere il vero messaggio originale. Qualsiasi professore ci metta le mani, a meno che non si verifichi il caso, raro, che non sia egli stesso filosofo, la rovina. La filosofia in fondo non si può insegnare, ed il suo messaggio più profondo è incomunicabile, inesprimibile nella sua vera essenza, nella sua verità ultima, nel suo nucleo intimo più elevato. Quindi la filosofia, di conseguenza, deve essere una libera ricerca di ognuno di noi, che in un libro, al massimo, ha il compito di stimolare. La filosofia è un'arte, non una scienza. La logica, il principio di non contraddizione aristotelico, la sillogistica, eccetera, sono i formalismi della filosofia, e hanno la medesima funzione che le regole matematiche hanno in musica, i cui rapporti numerici tra le note devono essere precisi, sì da creare armonie in luogo di stonature. Quindi la filosofia è poesia, quando si occupa dell'universale, del mondo, dell'uomo, del sentimento della bellezza, eccetera, e giunge a fare, delle sue analisi, una conoscenza razionale. La filosofia, dunque, non è uno sterile esercizio teoretico campato in aria di una specie di fogli chiamati filosofi, neanche un esercizio algebrico, le cui incognite si possono risolvere con equazioni di primo o di secondo grado, né un sillogizzare infecondo ed improduttivo. La filosofia non può risolversi nemmeno in una descrizione di regole o di schemi mentali per capire l'universo, oppure in un profluvio inconcludente di parole e di libri fini a se stessi. Ma peggio ancora, la filosofia non può consistere neanche in enunciazioni di precetti morali che si apprendono attraverso un libro. La filosofia è un qualcosa di molto concreto, della massima serietà, che riguarda la profondità dell'animo umano e il destino stesso dell'uomo e della natura che lo circonda, ma anche molto di più di tutto questo. Si comprende così che la filosofia è un'esigenza primaria dell'uomo, che nasce più che dal suo stupore di essere al mondo, che pure fa la sua parte e lo spinge alla ricerca e alla scienza, dà la constatazione della finitudine di tutte le cose, il pantarei di eragito, dalla morte e dalla necessità di liberarsi dal male e dalle sofferenze della vita, dal bisogno di liberarsi dalla vita stessa, che qui si presenta come miseria, dolore e morte. Se la vita fosse eterna e piena di gioie e di amore, e se il male non fosse neanche possibile pensarlo, a nessuno verrebbe in mente di filosofare, ma tutti sarebbero occupati a godere appieno le grazie della vita, e sarebbe la cosa più stolta ed assurda del mondo mettere da parte la vita per meditarci su. Ma non è così. La vita è tutt'altro che gioia. La vita si presenta innanzitutto come un penso, un compito da svolgere sotto il peso della croce, con il risultato finale della morte. In virtù di ciò, la filosofia non può essere un insieme di teorie preconfezionate. Essa deve insegnarci a guardare dentro noi stessi e aiutarci a riconoscere la verità in noi. Attraverso un esame incessante di sé e del mondo proiettato fuori di sé, la filosofia deve educarci a riconoscere in primo luogo che siamo individui e, come tali, frutto di un errore innato. siamo uomini con vane aspirazioni, immersi nell'erfimero sogno della vita, gravati di una colpa che scontiamo con il dolore essenzialmente in tessuto in ogni vita e con la morte, per cui un abisso ci separa dal divino. Lungi da portarci all'ichilismo e allo scetticismo, la filosofia deve insegnarci a guardare con la chiarezza del pensiero e dell'animo, al di là della nostra esistenza terrena, al di là della vita materiale, in un senso liberatorio e catartico, proprio in conformità al processo della vita, di ogni vita individuale che volge inevitabilmente verso la morte. In questo senso, la filosofia è per gli eletti dell'umanità, per gli aristocratici della natura, per i pochi che sanno pensare e che si trovano sparsi qua e là anonimi per il mondo. Questi pochi possono occupare tutte le classi sociali, in cui il caso e la necessità della vita li ha sbattuti. Possono portare tutto e blu, essere spazzini, panettieri, medici, ingegneri o capi di stato, oppure, a buon bisogno, possono essere degli esclusi, vivere ai margini della società, persone che di fronte alla vita e alle sue difficoltà assumono un atteggiamento disincantato. Obiezioni a questa disamina e domande tipiche dei nostri tempi sono che utilità ha fare filosofia, parlare di problemi universali dell'uomo in un mondo dedito a tutt'altro? Come si fa a interessare a queste cose una società oramai accecata, che corre biegamente, con una frenesia spietata, verso il materialismo più becero? Come catturare l'attenzione di uomini, attratti quasi esclusivamente dai divertimenti ameni, manipolati e degradati a semplici consumatori, schiavi ed oggetti essi stessi di consumo? Come scuotere gli uomini, la cui realtà credono si trovi in ciò che fanno e vivono di generazione in generazione nel loro quotidiano, tanto da non ammetterne altre? A queste corrette e legittime obiezioni risponde molto bene Platone, che ancora una volta ci viene in soccorso e ci dice che, mentre l'umanità vive immersa nel sogno, il filosofo è l'unico che cerca di tenersi testo. Comprendiamo da queste parole, pertanto, che la filosofia non si trova tra le nuvole, in quella coscienza sognante dell'uomo, ma nelle sue profondità, nella sua coscienza vigile. Essa non può mai risiedere nelle fumose metafisiche idealistiche, nelle vane ciance di chi specula sull'ente, sull'essere, sull'assoluto, o addirittura su Dio, andandoli a cercare in un fantasmagorico mondi per un anico, mentre la fonte viva, l'esperienza, scorre negletta sotto gli occhi. Il compito della filosofia non è di sorvolare il mondo, i fatti dell'esistenza, ma di sprofondare dentro i suoi meambri e quindi nel cuore dell'uomo, di sezionare questi fatti, squartarli fin dove si può arrivare. La verità filosofica, intesa così, non è perciò una verità assoluta, e quindi essa non può consistere, ad esempio, in un'intuizione intellettuale dell'assoluto, predesa da Hegel, la quale, però, essa pure in qualche modo tende, ma la cui risposta non potrà mai essere data, come dice Kant. La verità filosofica è la verità di un percorso che parte dal sentimento, dal cuore dell'uomo, che deve dare la risposta al dramma della vita, al dolore del mondo, alla morte, all'assoluta mancanza di amore. Ora, sebbene ogni uomo proceda partendo dalla sua posizione particolare, alla fine il cammino sfocia per tutti, perso la medesima e unica meta. Ciò è fondamentale capirlo bene. Questo significa prendere seriamente la filosofia. E ogni buon filosofo deve parlarci da dentro. Fare della filosofia un'arte, che, come tale, ognuno può comprendere quel tanto quanto egli stesso vale.